Invece il presidente del Proloco di Pesaro Urbino ha deciso che non si ricandiderà alla guida delle 67 associazioni di volontariato, una notizia che ha lasciato stupite tante persone. Do il benvenuto ad Occhio alla Notizia, Damiano Bartosetti. Grazie, ciao a te, buonasera a tutti. Otto anni di lavoro intenso, sacrificando, come aveva scritto lei in un posto pubblicato sui social, anche la famiglia e la salute. Cosa la spinta a prendere questa decisione? Ma è una decisione che è maturata da tempo, dal 3 ottobre il primo messaggio comandato nel gruppo delle Proloco mi ha spinto a cominciare a rivedere un po' la mia vita. E soprattutto l'impegno, tutto l'impegno che c'è da dare nel mondo delle Proloco non mi consente più di dare tutto quello che c'è da fare per il bene delle Proloco, c'è veramente tanto da fare. Quindi ho deciso di fare un passo indietro, di mettermi chiaramente a disposizione, perché poi l'esperienza può essere di aiuto. Però il mio, tra virgolette, rammarico è anche un po' la mia presa di posizione, soprattutto per le mie figlie. Lascia un bilancio in salute? Un bilancio in ottima salute. In ottima salute è frutto questo dell'aiuto, devo dirlo, di tanti imprenditori del territorio, di tante persone che hanno voluto aiutare le Proloco. Lei ha contribuito ad esempio anche allo sviluppo del Natale che non ti aspetti, che cosa le mancherà di più? Ma sicuramente come in tutte le cose, la bellezza di stare in mezzo ai volontari, insieme, l'amore che mi hanno trasmesso le Proloco. Perché diciamo questo, che tutto esiste, il comitato provinciale e regionale esiste perché esistono i volontari, esistono le Proloco. Cioè questa è una cosa straordinaria, noi abbiamo una nostra provincia fantastica, piena di volontariato. Quindi ho sempre messo al primo posto i volontari. I volontari hanno sempre fatto parte della mia vita e lo posso dire che in questi otto anni sono stati al primo posto. Ho messo sempre al primo posto le Proloco, il territorio, poi veniva la salute, poi veniva la famiglia. Questo non è più giusto, non è più concepibile. Non è più concepibile. Che cosa le ha insegnato questa splendida esperienza? Ma mi ha insegnato tanto e soprattutto, dico sempre, vorrei dire a tutti di amare, di metterci il cuore in tutto ciò che noi facciamo. È fondamentale. Fino a quando rimarrai in carica? Fino al 27 di aprile. Fino al 27 di aprile sarò in carica. Insomma, ho un ricordo bellissimo. Devo dire che i volontari sono stati sempre al mio fianco, anche nelle mie pazzie a volte, nelle decisioni, nei rischi anche che ho messo in campo. Ma devo dire che c'è stata una grandissima collaborazione. Io ho avuto un supporto straordinario da tutte le Proloco, dal mondo istituzionale, dal mondo politico, di qualsiasi estrazione politica. Tutti sono stati sempre al fianco delle mie scelte, delle mie proposte. Quindi posso solo che ringraziare, ringraziare soprattutto anche i consiglieri, i vari consiglieri, perché ho otto anni di passaggio. Ci sono alcuni che sono rimasti per tutti gli anni, alcuni che sono subentrati dopo. Però ringrazio tutti perché abbiamo lavorato, abbiamo cercato di lasciare un segno forte, un segno importante. Le Proloco sono veramente una cosa straordinaria e importante, ma tutto il mondo del volontariato. Quindi lei, essendo in carica, rimanendo in carica fino al 27, parteciperà anche agli appuntamenti che ci saranno nei prossimi giorni? Sì, l'ultimo appuntamento che parteciperò sarà quello di Fano, all'assemblea della Proloco di Fano, che ho promesso al Presidente e anche a Gino Bartolucci, che parteciperò. Però quello sarà l'ultimo appuntamento ufficiale, insomma, per la mia carica di Presidente Provinciale delle Proloco. Oltre al suo lavoro in provincia, lei ha anche altri incarichi? Sì, sì. Devo dire, ho un incarico in Fondazione Homo Bonus e qui mi permetto di ringraziare la famiglia Campanelli, in particolar modo Lorenzo Campanelli, che mi ha dato una visione diversa della vita. Quindi stiamo lavorando soprattutto per aiutare le persone speciali. C'è bisogno di tanto aiuto, quindi questo sarà il mio obiettivo, aiutare le persone speciali, aiutare le persone bisognose, perché credo che più persone riusciremo a far stare bene nel mondo, più staremo bene tutti. Quindi si impegnerà in tal senso? Non si candiderà in politica come ha pensato qualcuno? No, c'è stato anche questo messaggio, assolutamente no, non mi è mai interessato. A partire dal Proloco di Monbaroccio, dove io sono cresciuto, e quindi anzi ringrazio tutto il mio paese che mi ha permesso di crescere, perché tutte le persone, tantissime persone vicine che mi hanno permesso di crescere, i vari amministratori, tanti amici che continuo ancora a sentire. Quindi assolutamente no, non è il mio obiettivo, non mi interessa, ho il mio lavoro, vorrei continuare nel volontariato e soprattutto sempre di più mettermi a disposizione delle persone che hanno bisogno. Grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a te e grazie a voi. Buona serata.